Buongiorno cari amici, cari fratelli e sorelle, benvenuti, ben ritrovati sul nostro canale YouTube Fiumi di Acquaviglia, parola di speranza. Il tema che affronteremo oggi è conoscere alcuni attributi di Dio, dobbiamo conoscere meglio il nostro Dio e sapere appunto alcuni dei suoi attributi, perché molto spesso siamo abituati a parlare degli altri, delle cose, senza che conosciamo la verità, ci esprimiamo con orgoglio per far valere le nostre tesi, per abballare le nostre scelte, per convincerci che quello che stiamo facendo è giusto. Guardate, molti sono i concetti su Dio. Secondo me Dio è così, ma perché Dio fa così? Esprimiamo concetti, pensieri e tesi su Dio senza davvero conoscerlo, senza sapere chi è stato questo Dio, o meglio, chi è questo Dio. Alcune caratteristiche di Dio, tipo l'oniscenza, l'onnipotenza, l'oniveggenza e l'onnipresenza ci aiuteranno in questo studio a conoscerlo meglio. Come possiamo notare in queste caratteristiche, vi è in comune il prefisso onni. Onni significa dappertutto, ovunque. Quindi andiamo con ordine e analizziamo il primo attributo di Dio, la sua onniscienza. Onniscienza significa sapere tutto. Dio possiede la conoscenza perfetta e non ha perciò bisogno di imparare. Dio non ha mai imparato e non deve imparare. Onniscienza significa conoscenza del tutto. Dio conosce ogni cosa e la sua conoscenza è infinita. È impossibile nascondere qualsiasi cosa a Dio. Capita molto spesso di avere dei dubbi, di non sapere cosa fare in determinate situazioni. Siamo presi dalla confusione, dal disordine, dall'impazienza. Ma abbiamo a disposizione la soluzione al nostro vantaggio, l'onniscienza di Dio. Sapendo che Dio conosce ogni cosa, noi dobbiamo imparare che quando facciamo le nostre scelte, anche se molto spesso siamo sicuri e convinti di farle e che è giusto fare determinate scelte, dobbiamo dare l'ultima parola a Dio. Dobbiamo sottoporre le nostre scelte a Dio ed avere il consenso di Lui, in quanto la sua onniscienza è in grado di dirci se quello che stiamo per fare è buono per noi oppure no. Sapete, non tutto quello che è giusto può essere buono per noi. Non tutto quello che è lecito è il meglio per noi. Paolo, nella prima lettera ai Corinzi, 10.23, ci conferma questo dicendo Come possiamo notare, ci sono molte cose nella vita che sono giuste, sono lecite, le fanno tutti, ma se non edificano noi stessi, se non apportano qualcosa di buono per noi, mi domando perché le facciamo? Se Dio con la sua onniscienza ci suggerisce di evitare delle cose, perché ci dobbiamo porre sempre i perché? Ma Dio, non c'è niente di male. Anziché pensare ed arrivare alla saggia conclusione e dire Se lo ha detto Dio che è onnisciente, vuol dire che qualcosa di buono o di meglio sta per me. Di buono, perché molte cose possono apparire lecite, ma nascondono l'inganno. Quindi Dio ti sta per preservare da qualcosa di malvagio. Di meglio, perché senza dubbio facendo quella scelta, semplicemente ci stiamo accontentando di un qualcosa. Mentre Dio vuole darci di più. Lasciamo che sia Dio ad avere sempre l'ultima parola. Se leggiamo in Matteo 12.36-37, Gesù dice Io vi dico che di ogni parola oziosa che avranno detto agli uomini, renderanno conto nel giorno del giudizio. Poiché in base alle tue parole sarai giustificato e in base alle tue parole sarai condannato. Cosa significa tutto ciò? Che Dio sente tutto quello che diciamo e sente tutto di tutti. Per questo è onnisciente. Lui sa ogni singola parola che esce dalla nostra bocca a tal punto che nel giorno finale le userà a nostro favore o a nostro sfavore. Incominciamo a comprendere che non ci si può nascondere da Dio. Come detto, Dio conosce tutto e tutti. In Isaia 37.28 dice Ma io so quando ti siedi, quando esci, quando entri e quando ti infuri contro di me. Ed ancora in Ebrei 13 Non v'è nessuna creatura che possa nascondersi davanti a lui Ma tutte le cose sono nude, scoperte davanti agli occhi di colui al quale dobbiamo rendere conto. Proverbi 15.3 Gli occhi del Signore sono in ogni luogo, osservano i cattivi e i buoni. Questa è l'onniscienza di Dio. Dio vede ed ascolta tutto quello che facciamo e diciamo. C'è qualcuno che è in grado di nascondersi? La conoscenza di Dio è perfetta. Egli non ha bisogno di ragionare, riflettere, scoprire le cose o di apprenderle gradualmente. La sua conoscenza del passato, del presente e del futuro è istantanea. L'onniscienza di Dio è infinita, accurata, penetrante. Il profeta Isaia, nel capitolo 40, nei versi 27 e 28, dice Perché, dici tu, Giacobbe, e perché parli così, Israele? La mia via è occulta al Signore, è al mio diritto, non va del mio Dio? Non lo sai tu? Non l'hai mai udito? Il Signore è Dio eterno, il creatore degli estremi confini della terra. Egli non si affatica e non si stanca, e la sua intelligenza è imperscrutabile. È accurata. In 1 Samuel 16,7 dice Ma il Signore disse a Samuele Non badare al suo aspetto né alla sua statura perché io l'ho scartato. Infatti il Signore non bada a ciò che colpisce lo sguardo dell'uomo. L'uomo guarda l'apparenza, ma il Signore guarda il cuore. E poi è penetrante, e lo scopriamo in Salmi 139, nei versi che vanno dall'1 al 6. Signore, tu mi hai esaminato e mi conosci. Tu sai quando mi siedo e quando mi alzo. Tu comprendi da lontano il mio pensiero. Tu mi scruti quando cammino e quando riposo, e conosci a fondo tutte le mie vie. Poiché la parola non è ancora sulla mia lingua, che tu, Signore, già la conosci appieno. Tu mi circondi, mi stai di fronte, alle spalle, e poni la tua mano su di me. La conoscenza che hai di me è meravigliosa. Troppo alte perché io possa arrivarci. So già cosa state pensando. Se Dio è uniscente, perché non evita che le cose malvagie colpiscano la gente? Dio non può evitare che la gente si svida la verità? Il fatto che Dio conosca perfettamente, ed indistintamente tutti, ci lascia comunque scegliere, e lascia in noi il libero arbitrio che Egli stesso ci ha dato, e non forzerà le nostre scelte. Dio vede prima le cose, ma non le stabilisce. Siamo noi, oggi, sapendo tutto ciò, da essere così saggi, da avere timore, e da essere rispettosi del Signore, da coinvolgerlo nelle nostre scelte, sapendo che Lui è il meglio. Un'altra caratteristica o attributo di Dio è la sua onnipotenza. L'onipotenza di Dio è quella qualità che rivela la sua infinità, di fronte ad ogni ostacolo, potenza ed avversità. Guardate, l'onipotenza di Dio non la dobbiamo vedere come una forza selvaggia, cattiva, ma l'onipotenza di Dio è amorevole. L'onipotenza di Dio è ciò che Egli usa per creare la vita, per creare qualcosa di buono. Essa è immirata alla conservazione, non alla distruzione, come accade nella potenza umana e carnale. Quando l'uomo pensa alla potenza, pensa e si prodiga nella distruzione del prossimo, e cerca, l'uomo, di usare tutti i mezzi a disposizione per essere il più potente possibile. La potenza di Dio è creativa, crea qualcosa di buono in noi. La potenza dell'uomo è distruttiva. In Efessini 3, 20-21, l'Apostolo Paolo dice, Or, a colui che può, mediante la potenza che opera in noi, fare infinitamente di più di quel che gli domandiamo, pensiamo, a lui sia la gloria nella Chiesa e in Cristo Gesù per tutte le età, nei secoli dei secoli. Amen. L'onipotenza di Dio è illimitata. Non conosce età, tempo, barriere, ostacoli. L'onipotenza di Dio è solamente per il nostro bene. In Isaia 14, 24, il profeta scrive così, Il Signore dell'Eserciti l'ha giurato dicendo, In verità, come io penso, così sarà, come ho deciso, così avverrà. È sempre nello stesso capitolo, ma il verso 27 dice, Il Signore dell'Eserciti ha fatto questo piano. Chi potrà frustarlo? La sua mano è stesa. Chi gliela farà ritirare? L'onipotenza di Dio è irresistibile. C'è qualcuno che è in grado di distruggere Dio? Può il creato distruggere il creatore? Piuttosto, è il creato umano che tende a distruggere il creato di Dio. E molto spesso il creato umano distrugge se stesso. L'onipotenza di Dio, invece, è perseveratrice, è amorevole. Lascia che sia Lui a combattere le tue battaglie per te. Nella storia dell'umanità, l'onipotenza di Dio ha appurtato sempre beneficio all'uomo. In Ezechiele, capitolo 11, 19, il Signore dice, Io darò loro un medesimo cuore, metterò dentro di loro un nuovo spirito, toglierò dal loro corpo il cuore di pietra e metterò in loro un cuore di carne. Scusate, se questa non è onnipotenza di Dio. Nessuno è in grado di cambiare i cuori di nessuno, nessuno è in grado di cambiare gli altri, se non per l'onnipotenza di Dio. Ogni qualvolta tu dirai, Io posso fare questo, io devo fare questo, stai mettendo da parte Dio di conseguenza la sua onnipotenza. Ogni volta che tu dici, Io posso, io ce la faccio, io devo, stai dicendo a Dio, Dio, tu non puoi fare niente, io sì. Poi abbiamo l'onnipresenza di Dio. Essere onnipresente significa che è presente in tutti i luoghi, essere ovunque. C'è qualcuno di noi che è in grado di essere contemporaneamente in due posti distinti e separati? Sono certo che no. Niente e nessuno del creato di Dio può possedere questi attributi, nemmeno l'essere onnipresenti. Guardate, neanche il diavolo è in grado di essere onnipresente. Come non è onnipotente, anzi lui è impotente, senza potenza nella sua natura. L'onnipresenza è quella perfezione di Dio che ne sottolinea l'infinità rispetto all'universo. Per infinità non si intende l'estensione di Dio, in quanto Egli non è né altezza né lunghezza, né larghezza fisica, ma parliamo di infinità della sua natura. Dio è ovunque. Geremia 23-24 Dice così il profeta Potrebbe uno nascondersi in un luogo occulto in modo che io non lo veda? Dice il Signore. Io non riempio forse il cielo e la terra? Dice il Signore. Questo attributo di Dio è qualcosa di incredibile. Molto spesso ci lamentiamo e gridiamo a Dio Perché mi hai abbandonato? Perché mi lasci solo? Perché ti sei allontanato da me? Sono pensieri che senza dubbio non rispecchiano la realtà. Può mai un Dio onnipresente allontanarsi da ognuno di noi? Può essere mai che Dio non è coerente con quello che dice al tal punto da rinnegare se stesso? Dio ha promesso che non ci abbandonerà mai e non ci lascerà mai soli perché è onnipresente è un padre amorevole piuttosto siamo noi che non sentiamo la sua vicinanza siamo noi che ci allontaniamo dalla sua presenza siamo noi che con le nostre azioni rifiutiamo il suo starci vicino spiritualmente. Salmi 139,7 dice dove potrei andarmene lontano dal tuo spirito dove fuggirò dalla tua presenza grida Davide il Signore non ha bisogno di spostarsi né di estendersi né di correre sì, gli angeli sono velocissimi ma sono comunque creature di Dio Dio invece non si sposta la sua onnipresenza riempie l'intero universo anche dove si consumano i più grandi misfatti Dio è presente ora parliamo dell'oniveggenza altro attributo di Dio è l'oniveggenza essere oniveggenti significa sapere tutto quante volte ci capita di commettere degli errori e di vorrelli nascondere o trovare delle scuse per giustificare i nostri errori quante volte capita di andare alla presenza di Dio con la coda fra le gambe ed il capo inclinato e confessare il nostro peccato a Dio terminando il nostro dialogo dicendo Signore ma io non lo volevo fare ma io non volevo offenderti quante volte abbiamo fatto così partiamo dal presupposto che abbiamo fatto qualcosa di male agli occhi del Signore se lo abbiamo fatto è perché abbiamo scelto di farlo nessuno può obbligarci a fare cose che non vogliamo fare molti martiri della fede sono stati condannati a rinnegare Cristo ma questo non lo hanno permesso e si sono lasciati massacrare e torturare sappiamo che l'oniveggenza di Dio è in grado di sapere tutto non possiamo giustificare i nostri errori dicendo ma Dio io non volevo farlo perché questa è arroganza è orgoglio piuttosto sapendo che Dio sa già tutto è meglio predisporci con cuore umile e dire Signore ho sbagliato ho peccato contro di Te e contro il cielo perché la tua predisposizione di giustificare il tuo peccato non fa altro che aumentarlo la giustificazione al tuo peccato non fa altro che offendere ancora di più Dio definendolo stupido e ridicolo la tua giustificazione al peccato non fa altro che non dare valore al sacrificio di Cristo sulla croce sappiamo ora che Dio è onniveggente che con cuore umile dobbiamo dare valore al rapporto con Dio confessando umilmente i nostri peccati e le nostre mancanze confessiamo il nostro peccato valorizzando il potere salvifico del sangue di Cristo altra situazione che ci capita è quando andiamo davanti a Dio sempre con la coda tra le gambe il capochino e diciamo Signore tu sai quello che ho fatto perdonami ma non riusciamo a confessare il peccato pensiamo che basta di dire Signore tu sai Dio risponderebbe io lo so che io so e tu lo sai che è necessario confessare il peccato e non basta solo sapere di aver peccato anche il diavolo sa che hai peccato e finché non lo confessi Satana saprà che il peccato è sempre lì dentro di te se non confessiamo apertamente davanti a Dio e con cuore umile il nostro peccato il sangue di Cristo non potrà lavarci ora Dio sa del tuo peccato ma è pronto ad amarti e abbracciarti Satana sa del tuo peccato ed è pronto ogni giorno ad accusarti ed additarti davanti a Dio tu sai che hai sbagliato e stai lì con i sensi di colpa che ti attanagliano e allora a cosa serve sapere che tutti Dio Satana e tu sappiano che hai peccato? l'onivegenza di Dio ci deve mettere nelle condizioni che non possiamo trattenere le nostre mancanze prima di tutto perché Dio già le sa e poi perché se le tratteniamo non facciamo male che a noi stessi sapere che Dio è univeggente ci deve spingere immediatamente e senza pensarci due volte ad andare davanti a Dio da un cuore umile e confessare subito perché il tempo che lascerai trascorrere non ti sarà di aiuto più tempo passerà senza i sensi di colpa ti attanaglieranno più tempo passerà e più possibilità c'è che il diavolo passi da te e noti la tua condizione che lo autorizza ad accusarti e ad attaccarti nella mente poi nelle emozioni poi nel corpo e nel fisico fino ad assopire il tuo spirito il libro dell'Apocalisse parla dell'onivegenza di Dio tutte le profezie narrano e confermano l'onivegenza di Dio le oltre 300 profezie sulla venuta di Cristo la sua discendenza il luogo di nascita il momento della nascita il nascere da una vergine il suo ministerio la sua passione il suo sacrificio la sua resurrezione la sua assunzione e come detto il suo ritorno citato in Apocalisse non sono altro che l'onivegenza di Dio allora tu che stai ascoltando questo messaggio vorrei concludere fermati un attimo e rifletti ti trovi di fronte ad una scelta o lasciare che un Dio onnipotente onniveggente onnisciente e onnipresente si preoccupi di te delle tue situazioni della tua vita oppure puoi pensare che tu abbia tutta la potenza la conoscenza la presenza ed il sapere per risolvere le tue situazioni ah guarda Dio ti lascia il libero arbitrio ma sappi che ogni cosa che lui ha per te ogni consiglio ogni suggerimento è per preservarti non per privarti è per il tuo bene è per dimostrare il suo amore che ha per te è perché è il meglio che tu possa avere siamo figli di un Dio onnipotente onniveggente onnisciente e onnipresente è vero quando Gesù dice che dobbiamo essere simili ai bambini perché quando noi eravamo bambini e ci trovavamo nelle difficoltà il nostro istinto ci ha portato ad andare verso il nostro papà la nostra mamma perché sappiamo che il nostro papà la nostra mamma sono stati i nostri primi eroi in loro noi vedevamo l'onipotenza l'oniveggenza l'onniscienza l'onipresenza la sapienza poi man mano che siamo cresciuti questa vita e le vicende della vita ci hanno portato ad essere orgogliosi a saper fare tutto e a voler fare tutto da soli io so io so fare questo io so come fare me la vedo io so io noi ci facciamo vendetta da soli ci facciamo giudici da soli siamo in grado di farci tutto da soli ma poi accade puntualmente che essendo esseri umani prima o poi uscirà fuori la debolezza dell'uomo e lì puntualmente siamo pronti ad andare a Dio e non riconoscere subito Dio perdonami no Dio perché hai permesso questo Dio dove sei ecco vedi tu dici di essere onnipotente tu dici di essere onnipresente ma dov'eri tu non esisti e Dio sta lì ad ascoltarti e a dirti guarda quando tu gli umilierai e riconoscerai che senza di me non potrai fare nulla e quando tu vivrai una religione anziché una relazione quando tu incomincerai ad avere relazione con me quando tu prima di scegliere un qualcosa la sottoponi a me escruti il mio pensiero metti a punto il mio pensiero allora tu scoprirai io chi sono dove sono scoprirai un Dio che è onnipotente scoprirai un Dio che è onniveggente scoprirai un Dio che è onnisciente onnipresente quando tu senza chiederti ma come perché metti in pratica un consiglio di Dio ti posso dire questo potrai anche non capire subito il perché ma sarà questione di tempo che Dio ti rivelerà il perché lui ti ha consigliato questo e lì lo innalzerai lo glorificherai e lo ringrazierai per averti preservato io vorrei testimoniare in occasione di questo un qualcosa che mi è accaduto realmente e avevo bisogno di soldi nel mio lavoro e nel mio ufficio si affacciò un cliente che mi commissionò un lavoro io facendo i calcoli di questo lavoro il progetto finale era di pari passo l'importo che a me serviva per poter tamponare quella richiesta di soldi ma nel momento in cui io stavo stampando il preventivo e il cliente stava sottoscrivendo l'approvazione Dio mi disse figlio non fare questo progetto non farli firmare questo contratto allontanati da quest'uomo io in un primo momento ho detto Dio è buono sto pregando che per i soldi e tu mi dici non lo fare però capi subito una cosa se Dio mi sta dicendo non lo fare io non sto guardando la mia esigenza sto guardando al perché Dio si è mosso così in maniera repentina da dirmi figlio non lo fare e così con una scusa ahimè disse il mio cliente che io non potevo più fare quello perché non avevo calcolato bene delle cose e il cliente insisteva a dire ma come stai rifiutando lavoro di questi tempi uno rifiuta un lavoro rifiuta dei soldi io gli ho detto non è che io rifiuto è che non sono in grado di ottemperare bene quello che tu mi stai chiedendo è una questione d'immagine il cliente se ne andò e io chiedevo adesso signore io ho obbedito a quello che tu mi hai detto adesso Dio fammi capire perché e non ho avuto risposta passarono degli anni io ogni tanto mi ricordavo di questa cosa e dicevo signore perché 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 quella volta tu non mi hai fatto portare a fine quel contratto mi ritrovai a distanza di due anni in un convegno tra colleghi un collega si avvicinò e mi raccontò un fatto mi disse sai tempo fa è accaduto che una persona di acqua viva del tuo paese è venuta da me per questo tipo di progetto io gli ho fatto tutto il progetto gli ho fatto tutto il lavoro ma io non ho beccato una lira non ho beccato un centesimo ma subito dopo io usci fuori dalla stanza alzai le mani al cielo e dissi signore grazie perché non solo io dovevo avere una necessità di soldi in partenza ma si doveva si doveva sommare questa ulteriore somma avrei avuto un un disagio economico con quel progetto e Dio mi ha preservato e ancora oggi dico signore grazie questo significa che molto spesso non tutte le cose che sembrano buone che sembrano lecite noi dobbiamo prenderle a volo è bene sottoporre a Dio sempre cosa ne pensi Dio posso andare avanti posso procedere è giusto scrutare l'onnipotenza di Dio la sua onniveggenza la sua onniscienza e la sua onnipresenza Dio vi benedica grazie a tutti Grazie per la visione!